Una lite che capita in tanti condomini, ma che in questo caso è degenerata e spunta un coltello. Brutta avventura nel corso della giornata di domenica nel rione di San Pio, a Lecce, dove un 23enne è stato accoltellato al termine di un litigio tra condomini. Stando a quanto ricostruito dagli agenti arrivati sul posto a ferire il giovane rivale, sarebbe stata una donna, 56enne, dopo l'ennesima discussione nata per il parcheggio nel parco condominiale. La lite è avvenuta all'interno del complesso delle palazzine popolari che si trovano in via Toma e si affacciano proprio sulla chiesa di San Pio, nella periferia di Lecce. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane presso l'ospedale Vito Fazzi, dove è stato medicato e gli sono stati applicati i tre punti di sutura all'osterno. L'uomo sarà guaribile in circa 15 giorni, la 56enne invece è stata denunciata e sono in corso le indagini delle autorità competenti. Grazie.